Grazie Presidente. Io in questo intervento faccio seguito a una lettera che un sindaco di Valbondione ha già mandato al Ministro dell'Interno lo scorso 27 maggio. Con la presente lettera lei non faceva altro che porre l'attenzione per un forte dissenso espresso al Prefetto di Bergamo per la scelta di collocare proprio in questo comune di poche anime nuovi immigrati. Questo comune ha mille abitanti, poco più, ed è situato in area montana della provincia di Bergamo ed è in condizioni già di forte svantaggio sotto l'aspetto di un'economia estremamente fragile che ne ha caratterizzato gli ultimi decenni. Il Prefetto ha comunicato al Sindaco che verranno messe a disposizione da privati tre case vacanze per un totale di circa 150 posti liberi. Questo mio intervento è proprio per significare come il business dei privati legato alla questione dei migranti è arrivato anche in un Paese dell'Alta Val Seriana con la totale mancanza di rispetto nei confronti dei residenti che si trovano costretti a convivere quotidianamente con le problematiche generate chiaramente dalla convivenza quotidiana. E dove è l'impiccio, Presidente? Già dal giugno 2014 si sta vivendo una situazione di emergenza, tanto che attualmente in questo comune, Comune di Valbondione, sono presenti 60 migranti nella piccola frazione di Lizzola, costituita da un nucleo di circa 200 abitanti, e altri 22 migranti nella frazione di Gavazzo, dove risiedono solo 31 persone. Quindi c'è uno sbilanciamento enorme all'interno di un sistema che ci vede assolutamente contrari come proprio principio primo di attuazione di un sistema di accoglienza diffusa che diffusa è solamente sulla carta. Poi mi chiedo, signor Presidente, se dov'è l'integrazione, se questi giovanotti che bigallonano tutto il giorno fanno parte di un programma serio di inserimento, se il lavoro è qualcosa di importante per l'integrazione, se la scuola è qualcosa di importante per l'integrazione, credo che siamo completamente fuori strada. Ha fatto bene il Sindaco, ma questo Sindaco rappresenta probabilmente anche l'idea che una serie di soggetti che fanno amministrazione con passione potrebbero scrivere al Ministro degli Interni per denunciare un po' queste situazioni. Se ne arrivano 2.000 al giorno, io non so come faremo a sistemarle. Non vorrei che l'idea di aumentare la percentuale di atrazina nell'acqua per sistemare la questione della potabilità diventasse così anche per i migranti. Appena si saranno superate le quote per ogni 1.000 abitanti, si modificherà la percentuale in modo tale da poterne ancora mettere nei comuni e quindi non credo che ci sia una soluzione di sorta a questa problematica. Bene ha fatto il Sindaco a scrivere ed è un problema che deve essere assolutamente collegato alla questione dello Iussoli che arriverà in questi giorni in aula, su cui noi saremo sicuramente molto contrari. Grazie a tutti.